Buongiorno ragazzi e ragazzi, nuovo video! Oggi ragazzi sarà un video diverso dal solito perché ho deciso di mostrarvi la mia attuale collezione di occhiali da sole allora dovete sapere che io di occhiali da sole ne ho tantissimi sia occhiali costosi che occhiali meno costosi ci sono dei modelli che col passare degli anni non vanno più ma che comunque io colleziono e tengo attualmente sto utilizzando solamente questa linea di occhiali come potete ben vedere è un brand che ha degli occhiali con prezzi vantaggiosissimi ma di estrema qualità si chiamano CXUS praticamente io adesso vi mostro subito questa mia collezione di occhiali considerate che questo è un video in collaborazione io questi occhiali li sto utilizzando già da diverso tempo perché ragazzi questo brand è specializzato nel proteggere appunto i nostri occhi oltre ad avere occhiali da vista, occhiali da sole hanno delle lenti che appunto vanno a proteggere i nostri occhi sicuramente tanti di voi hanno sentito parlare del fenomeno della luce blu questa luce blu ragazzi ormai la troviamo dappertutto sia nelle nostre case che fuori dalle nostre case perché la luce blu sarebbe quella dei nostri smartphone dei tablet, dei pc in tantissime luci a led che abbiamo appunto nelle nostre case ma anche al di fuori questa luce blu mi sto facendo questa piccola intro per spiegarvi proprio al dettaglio perché vi voglio mostrare e consigliare questa collezione questa luce blu tende a creare dopo diverse ore di utilizzo di pc, tablet, smartphone oppure proprio a stare all'esposizione di queste luci a led provocano irritazioni agli occhi, infiammazioni dopo tante ore di utilizzo provocano anche insonnia e grazie a queste lenti particolari sono riuscita a non far arrossare più i miei occhi perché ragazzi dovete sapere che io svolgo un lavoro davanti al pc e ci sono diverse ore in più la mia passione per youtube e instagram mi porta a stare tantissime ore anche davanti ai riflettori e questo mi comportava parecchia irritazione agli occhi ma anche per chi di voi che non ha un canale youtube e comunque svolge dei lavori o passa tanto tempo davanti a pc, tablet o smartphone questi particolari occhiali vi aiuteranno tantissimo a proteggere i vostri occhi ma partiamo con il primo vaglio di occhiali allora naturalmente ragazzi ho cercato di rimetterli bene nella custodia per farveli vedere al meglio si presentano in questo modo già la custodia è veramente elegante veramente piacevole eccola qua allora vado ad aprire il mio paio di occhiali trovate all'interno appunto la bustina io le ho rimesse all'interno trovate anche bellissimo la spugnetta per pulirli con anche la loro card allora la custodia come potete vedere è veramente bella con questa forma particolare vado a tirare fuori i miei occhiali eccoli qua guardate ragazzi quanto sono belli questi occhiali da sole allora questi sono occhiali da sole ragazzi che hanno la lente polarizzata antirifresso e praticamente ho scelto questi occhiali all'interno come potete vedere sono un pochino scuri sono degli occhiali a specchio molto di moda molto in voga in questo ultimo periodo lo stile è veramente fantastico super fashion sono realizzati con lenti tac di alta qualità e la montatura è di acciaio inossidabile quindi garantiscono una durata maggiore ecco qua ragazzi come potete vedere questo è il modellino dei primi occhiali di cui appunto vi sto parlando è un modello veramente bello veramente alla moda e soprattutto ragazzi ha queste lenti che vanno a proteggere i nostri occhi dai raggi ultravioletti e anche dalla luce blu che vi stavo dicendo prima quindi i vostri occhi saranno protetti sia all'interno che all'esterno eccoli qua ragazzi ve li faccio vedere di nuovo la montatura bella solida ok questi adesso li vado a rimettere a posto poi passiamo con il secondo paglia di occhiali altro modellino di occhiali che vi voglio mostrare ragazzi che sto utilizzando tantissimo in questo periodo eccolo qua sempre la scatolina con la custodia allora sono loro ragazzi sono bellissimi anche questi sono veramente veramente belli allora ve li mostro subitissimo eccoli qua ragazzi sono loro questi in realtà sono occhiali doni sia da uomo che da donna come potete vedere sono degli occhiali che hanno sempre una montatura scura perché questi li prediligo più a utilizzarli diciamo all'esterno quindi quando vado al mare quando vado in montagna quando vado ovunque vado quando devo andare al lavoro quando guido cioè sono delle lenti che quando sono esposta particolarmente ai raggi solari mi aiutano tantissimo a rimanere appunto con gli occhi ben averti ad essere vigile a godermi anche bellissimi panorami senza avere i raggi solari dritti negli occhi hanno una montatura leopardata maculata come vogliamo definirla hanno sempre queste lenti tac che appunto proteggono dai raggi UV stavolta la montatura ragazzi è di plastica ma vi devo dire che è una montatura molto solida molto stabile sono degli occhiali poi versatili che si abbinano a tantissimi look ve li consiglio sono veramente veramente belli poi ragazzi io comunque vi metto tutti i link nell'info box in modo tale che se qualcuna di voi è interessata all'acquisto di questi occhiali può tranquillamente cliccare sui vari link accedere direttamente allo store del venditore così può vedere anche quanti modelli di occhiali sia da vista che da sole ha questo venditore di ottima qualità ma soprattutto ragazze con un prezzo eccezionale sappiamo che gli occhiali da sole sono estremamente costosi quelli di buona qualità ma questa la qualità veramente merita ha un prezzo comunque diciamo idoneo un po' per tutti poi passiamo ragazzi a un altro paio di occhiali che è quelli che vi dicevo che io indosso frequentemente quando sono praticamente qui in casa o in ufficio praticamente sembrano degli occhiali da vista ma non sono degli occhiali da vista perché praticamente sono degli occhiali che hanno queste lenti che riposano praticamente gli occhi quindi non hanno gradazione ma allo stesso tempo li proteggono dalla luce blu che vi dicevo eccolo qua e praticamente questi occhiali ragazzi vi aiutano a mantenere riposati gli occhi quando state davanti al display dello smartphone quando state davanti al tablet o passate tante ore al pc oppure se avete tantissimi riflettori sono occhiali come potete vedere eccoli qua sembrano occhiali da vista ma non lo sono hanno una bellissima linea anche questa sono di plastica ragazzi la montatura è di plastica tranne questa parte che è in acciaio inossidabile hanno sempre le lenti appunto che vanno a proteggere gli occhi e vi aiutano a mantenerli riposati quindi a non farli arrossare a non farli irritare poi ragazzi andiamo avanti con un altro paio di occhiali ecco qua li andiamo a scattare poi ragazzi questi sono i toni anche per fare un regalo di compleanno come potete vedere hanno una bellissima scatola una bellissima custodia cioè veramente non possiamo eccoli qua ragazzi li sto avrendo fare brutta figura se regaliamo un paio di occhiali del genere cioè ma guardate questi ragazzi questi sono da urlo sono strepitosi li amo ragazzi guardate quanto sono belli cioè state vedendo questi ragazzi sono uno dei miei preferiti li indosso frequentemente li adoro veramente sia con un look sportivo ma anche con un look più elegante hanno la montatura anche questi in plastica la lente TAC sempre per proteggere dai raggi UV per proteggerli appunto dalla luce blu ma sono molto soliti stabili si adeguano tranquillamente a ogni linea del viso e sono fantastici ragazzi poi dei prezzi veramente che io vi lascio sempre tutto quanto nel link potete vedere la bellezza di questi occhiali cioè sono fantastici io li amo ragazzi li amo li adoro poi trovate tantissimi colori colori anche per le lenti colori per la montatura quindi non è che dovete prendere per forza questo modello ci sono tantissimi modelli e tantissimi colori che possono far per voi se avete una preferenza di colore una preferenza delle lenti potete scegliere quello che volete perché la vastità di questi occhiali da sole o occhiali da vista sono talmente tanti che vi potete veramente sbizzarrire poi ragazzi andiamo avanti con i prossimi occhiali l'ultimo paio di occhiali che sto utilizzando tantissimo in questo periodo si tratta di lui ve lo mostro immediatamente ragazze eccolo qua questo ha la montatura in acciaio sembra praticamente un occhiale da vista ma non ha gradazioni è un occhiale appunto per riposare proteggere i nostri occhi ha la montatura leggermente emaculata leopardata rimane molto fine come potete vedere ha sempre la lente che va a proteggere i nostri occhi come potete vedere io questi li uso frequentemente soprattutto poi anche per non andare sempre con lo stesso paglia di occhiali perché spesso ci andiamo a comprare all'ottica gli occhiali da vista dobbiamo portare sempre solo quel modello invece praticamente per chi non ha problemi di grandissime gradazioni che comunque ci sono anche degli occhiali anche specifici se avete determinati tipi di problemi ma per chi come me magari non ha problemi di gradazione e vuole semplicemente tenere a riposo gli occhi e proteggerlo dalla luce blu può tranquillamente utilizzare tantissimi modellini che vedete a prezzi irrisori vi potete cambiare e abbinare i vostri look in base appunto ai vostri occhiali io li trovo fantastici stupendi ragazzi li amo li adoro e poi vi devo dire da ragazzetta non amavo mettere gli occhiali io non ho avuto grandi problemi con la vista però magari per un periodo mi avevano consigliato dopo tante ore di studio di utilizzare occhiali da riposo a me non andava a indossarli perché non mi sentivo bella non mi sentivo a mio agio invece adesso ragazze vi devo dire che sono occhiali che veramente ti caratterizzano e completano anche il look quindi se non avete non fatevi pensieri assurdi nella testa perché veramente anche quelli da riposo sono fantastici ragazzi e ve li consiglio vivamente eccoli qua guardate quanto sono belli stupendi poi passiamo all'ultimissimo paio di occhiali eccoli qua tata ve li faccio vedere sempre per creare look diversi per cambiare i nostri appunto eccoli qua questi hanno una montatura nera lucida sempre occhiali per proteggere appunto i nostri occhi eccoli qua così ragazzi sembro una professorina ma vi devo dire che li adoro anche questi perché appunto visto che io passo tantissime ore al pc questi mi aiutano tanto 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 quelli da sole li uso più per l'esterno naturalmente e questi qui ragazzi li uso qui in casa ma anche a volte per vedere la tv perché adesso le nostre tv sono comunque anche a led quindi tendono a farci stancare gli occhi io ad esempio questi li indosso anche la sera prima di andare a dormire quando mi metto a rispondere a tutti i vostri commenti mi aiutano a tenere riposato gli occhi anche dopo una lunga giornata che magari sono stata al pc e ve li consiglio ragazzi vivamente come vi ho detto i prezzi sono abbordabili vi potete sbizzarrire con modelli tipo di lenti colori montature c'è di tutto e di più in questo store vi segno tutto quanto nell'info box ragazze e se avete domande avete bisogno di qualsiasi informazione scrivetemelo anche nei commenti io vi risponderò perché sono a vostra disposizione quindi non esitate appunto a scrivermi se avete bisogno anche per non so informazioni per l'acquisto sul sito io sono qui sempre da voi spero che la mia collezione di occhiali vi sia piaciuta e niente vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.